Ok, benvenuti ragazzi, io sono Gisus e oggi continuiamo con Axel World vs World Art Online Ok, ho deciso di riprendere dal dungeon di Yellow Radio per farvi vedere questi fantastici simboli qua che io ho capito cosa servissero solamente dopo Allora, come ci ha detto Yellow Radio il suo dungeon, o meglio il dungeon in cui siamo all'interno, ha un tempo e inoltre io mi sono messo a colpire dei cristalli completamente a caso senza neanche sapere a cosa cavolo servissero Ma ritorniamo serio, vedete la mappa in alto a destra e il simbolo che c'è lì? Bene, perfetto Quello che in quel momento stavo giocando e non ha pensato che ci potesse essere un minimo senso logico in quei cristalli è che il simbolo visionato sul poimento e i simboli visti prima avessero un collegamento Quindi, qua completamente a caso sono riuscito a colpire il cristallo verde Ok? Completamente a caso Ma qua possiamo chiedere a Nico, ecco, come potete vedere il simbolo verde cioè il colore verde corrispondeva al simbolo che abbiamo visto abbastanza vicino Qua Nico invece sta chiedendo a Yellow Radio se è sicuro del fatto di essere un fantasma oppure il velo, il vero re Come potete vedere qua sto osservando i simboli dopo aver capito la meccanica è abbastanza semplice e il simbolo disegnato per terra corrisponde al cristallo viola quindi per proseguire noi distruggiamo il cristallo viola e possiamo, siamo liberi di proseguire In questo caso era l'ultimo enigma Mi, aspettando, si vabbè Io, ok? Quindi noi c'è Oh, ok Non c'è chi Non c'è chi Non c'è vero Bélu potete fare loro Come potete Non so Che cosa Allora Si No Ma Buongiorno ... Ok, purtroppo il Yellow Radio ha il territorio a suo vantaggio e Filia e Sinon non hanno voluto dirci qual è il loro piano quindi tutto nel loro romani e non chiedetemi perché, ma le apparizioni dei re sono sempre senza volume comunque quella è la mossa finale di Yellow Radio con la giostra e i cavalli, esatto, sì, molto particolare Bell, ora posso aiutare! Ma, per quanto riguarda lei, per quanto riguarda lei, per quanto riguarda lei? Non potete vedere la mia pelle di Rime-Belle? Sì, non vedo che la mia scuola, ma non vedo che la mia scuola? Che! Crono, un po' di più. Alla prossima. Per quanto riguarda questa ragazza, vorrei farlo con la scuola e la scuola. No! Sì, che cosa succederà in questo mondo, non è vero che nessuno non è vero, quindi... Sì, vediamo questo qui... Alla fine, se tu non hai bisogno di farlo, non potrà capire il livello 10. Sì... Dopo che il loro ha già avuto un po' di queste due, e io voglio anche valere il tuo attenzione. Non potete fare il consiglio della battle royal? Rone, cosa faccio? Non ti farò di fare. Ecco qua, bene. Il e questo è un problema che ci siano con queste due a queste due. Il fatto che non si può essere riuscita, ma non è possibile che non si può essere riuscita. Andiamo, L'Otus! Andiamo, Scarletta Rain! Sì! Ah! Andiamo! Sì! Sì! ... Ma questa è la mia volta, non mi guarda? ... ... ... ... ... ... ... Sì, grazie. A tutti voi stai facendo. Alla prossima. Ahahahah. È una buona cosa. È una buona cosa che si tratta di un uomo. Ma... E se che il fanno il ponte del regno di Dio, al momento che si chiama il ragazzo, si chiama il ragazzo. E' un'ora di questo, che si chiama il ragazzo. Sì, il ragazzo che si chiama il ragazzo. Ma, ma cosa? Questo è quello che gli uomini stai. Giu! Un'gagg! È ora, Pado! Che! Uaah! Do... 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 Eh? C... Questo è... Saccs, Filia, Silica, e Sino Nelio di bell'e partire in moto Que... che... 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 Sate, questo è il valore della nuova Sì, no... Asuna, suonano, tornare il risultato Ehi, lo soco, bebi! Nasi... ... ... Ok, usare le doti di Spriggant di Filia si è rivelato molto utile, anche Lifha e She non hanno fatto la loro parte. Ora tocca a noi fare la nostra e usciverò Yellow Radio, cioè il re giallo, uno dei sette re di coloratura di Axel Ward. Come ci ha detto nell'episodio precedente, la speciale di Yellow Radio sono le illusioni. E ne abbiamo subito l'illostrazione qui, questa è la mossa finale di Yellow of the War e ci confonde, come ci confonde? Ebbene io non me ne sono reso conto ma i bersagli scelti sono completamente a caso, quindi potrei colpire Yuki, Asuna o qualcun altro se non sto attento e non è cosa da poco perché i nostri attacchi fanno male, molto male. Quindi quando viene lanciato quell'attacco lì dobbiamo stare molto attenti, difendersi, pararsi, fare quello che vogliamo, possiamo anche tentare di colpire Yellow of the War, non ce lo vieta nessuno, ma se per sbaglio colpiamo il nostro compagno, questo verrà ferito dall'attacco, cosa che notoriamente non succede, infatti i nostri amici sono sempre prodotti da un velo di immunità dai nostri attacchi. Invece con questa mossa, oltre a continuare a cambiare le sbaglio e rendere quasi impossibile targettare per certo Yellow of the War, rischiamo di targettare anche Asuna o Yuki o qualsiasi di altri, sia i nostri compagni. Cosa interessante è che Yellow of the War qui non sa di essere una copia e intenta di fare qualsiasi cosa in suo podere per venire vivo ovviamente. Direi quasi umano questo, il problema è che di umano non ha niente, come abbiamo già capito sono semplicemente dati fantasie. Possiamo dire quasi che abbia un'aura diversa. E lo sto evitando malamente, e quello era uno starbustino che se mi colpiva era un morto 18 volte. Ora ora, dove siamo su JoJo? Chi ha capito questa citazione? E' un'altra vita. Ha pochissima vita, vediamo se riusciamo a ucciderla in breve tempo. Ed ecco qua, un'altra con la mossa di Yellow of the War, che purtroppo non vedremo, perché è morto. Purtroppo, per fortuna non vedremo, io sarei quasi più sul per fortuna. Ehi, è sempre un re, un mattacchionano re. Ehi, è sempre un'altra cosa. Ehi, sono tutti. Ehi, è sempre un'altra cosa. Non è stato un po' di questo tipo? Ahahahah... Chiuri è stato un po' di bene. Il corpo è morto, ma... Alla qualsiasi erano le tue erano... E' stato un po' di questo tipo. Gigi è stato un po' di tutti. Filiato e Sili. Sino, è stato un po' di più. No, è stato un po' di più. Sì! è stato molto spettato, quindi mi sono stato molto difficile, però comunque mi sono stato un po' di spettacare. Ha fatto un po' di scettacare, Cion. Ah, che vero! Sto che stavo con le fps stavano con un capponcino di spettacare come una scuola di un po' di spettacare. Hai scritto un po' di spettacare a quella della stazione? Non so, dovete fare un po' di domande, non lo faccio! C'è il suo superiore. Ok ragazzi siamo usciti dal dungeon Come probabilmente vi siete potuti accorgere Purtroppo una parte di dialogo è stata mangiata Che cosa veniva detto in quella parte di dialogo Niente di importante Se non che una volta sconfitto il yellow radio O per voglio dire il falso yellow radio C'è stata droppata un'altra sfera Che i nostri amici hanno voluto definire di colore puro Ovviamente la sfera gialla porta il nome della legione gialla E stanno lì adesso capire dove va messa Ma probabilmente non è altri o quelli di colore sfera del r которого Beh è un problema Era un problema Cosa sei io E' un'altra nuova Perché non potete essere più forte Ma cosa gli dice Asuna è forte Molto Ecco Lo dico Chiede Asuna E' vero Certo Lo dico Lo dico E' vero Ah Io Ah Ecco Ho E' Ma Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.